Io sono incantato dalla parola di Dio, la mia vocazione è venuta illuminata dalla parola di Dio. Quando Geremia dice, parlando del futuro popolo di Dio, che il segno che è popolo di Dio è che in mezzo a loro c'è il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente. Sono le quattro forme di vita più debole, ma sta attento, non dice che sono portati sulle portantine, no sono in mezzo al popolo e cammino con loro. E sono loro che segnano il passo della storia di quel popolo, quando invece sono messi nei ghetti oppure sono sfruttate in maniera orribile, sono chiusi nelle strutture immarginate e immarginate. Che vergogna, ma ci sono tanti poveri che non ci cercheranno mai, quelli dobbiamo cercare noi. Se non li vado a cercare, io non sono vero, perché dico che sono miei fratelli.